Due sorprese da un lato, altrettante corazzate dall'altro. Biceglie e Molfetta accelerano, ma per entrambe ci sono da superare ostacoli complessi. Nerazzurri stellati di scena sul campo del Foggia in Cedit per la squadra di Branà, l'avversaria e il Polimnia. Cerca riscatto l'unicalcio Biceglie, consapevole che un ulteriore passo falso potrebbe compromettere la partecipazione ai playoff di Girone. Nel raggruppamento B di eccellenza, riflettori tutti accesi sullo Stadio Italia. Derby Tarantino tra Massapra e Manduria. La gara sarà visibile in streaming su Antenna Sud Sport 2. Ospiti rinfrancati dal passaggio del turno in Coppa Italia, ma consapevoli anche di non dover perdere terreno ulteriore dalla capolista Ugento, che a domicilio riceverà il matino. Per i padroni di casa, invece, è la grande chance di consolidarsi all'interno delle griglie degli spareggi promozione. Per il Racale, attualmente secondo in coabitazione col Manduria, trasferta delicata ad Alberobello.